Il bambino che ho trasferito in T.I.P. non è mai arrivato. Hanno rapito il nostro bambino. L'ospedale è in isolamento, attuale misura. Sbrigatevi, l'intero ospedale sta per essere isolato. Vi prometto che troveremo il vostro bambino. In prima visione Italia 1. Mi spiace, non puoi entrare. C'è un uomo al pronto soccorso che ha una ferita aperta nel cuore. Chicago Man, venerdì 21 e 20.